Buon pomeriggio, sono Laura Antichi, vi voglio mostrare i comandi base per poter realizzare un vaso nella versione 2.80 beta di Blender, che presenta alcune differenze sia nell'interfaccia che nelle funzionalità rispetto alla versione precedente 2.79. Cancello il cubo con X, cancella, e in Aggiungi aggiungo da Mesh un cilindro. Attivo la barra laterale con N per poter vedere le dimensioni dell'oggetto, della X, Y e Z. Lascio inalterate la X e la Y e invece modifico la Z, ossia l'altezza del mio solido, portando a 5 cm. Mi posiziono in 1, front orthographic, vado in modalità modifica e aggiungo dei tagli al mio cilindro, con CTRL-R, il primo taglio, poi CTRL-R, il secondo taglio, posiziono qui, e inserirò successivamente diversi tagli, ok? Seleziono il taglio più basso con Alt, premendo con il sinistro del mouse, e con S allargo leggermente la base del mio vaso, così. Poi, di nuovo, voglio allargare il secondo loop, quindi vado con Alt, sinistro del mouse, S, S, allargo ancora il vaso, doppio clic, ora di nuovo con... prendo l'altro taglio, con S, allargo il vaso, aggiungo un ulteriore taglio con CTRL-R, che posiziono, va bene, posiziono qui, poi voi lo potete fare con calma, con la forma che preferite, che vi piace di più, e sempre con S, lo stringo, comincio a stringere il vaso, CTRL-R, inserisco un altro taglio, qui, sempre con S, stringo di nuovo, CTRL-R, più ne aggiungo, meglio E, per la forma del vaso stesso, sempre con S, allargo un momentino, ok, e poi metto un altro taglio, CTRL-R, ok, lo allargo un attimo, con S, posso provarlo, ecco, così, e poi mi posiziono sull'ultimo, sempre con Alt e tasto sinistro del mouse, e anche qui, con S, vado ad allargare il vaso, cercando di fare anche una sorta di bordino, ok, quindi ho dato a forma il mio vaso, potrei svasare anche la parte base del vaso, proviamo a vedere se migliora l'aspetto, sempre con Alt, il sinistro del mouse mi posiziono, S, allargo un pochino, per allargare la base, allarghiamo un po', così, ecco, del vaso, ecco il nostro vaso, è a questo punto bozzato, come vedete, però, questo vaso deve essere bucato, quindi mi posiziono sempre con Alt e sinistro del mouse, sulla faccia laterale, con X, ecco, ho, quindi, scavato il vaso, facciamo una piccola rifinitura a questo vaso, nella parte inferiore del vaso, mi seleziono sempre il bordo con Alt e il sinistro del mouse, il bordo, con I, creo una piccola rifinitura alla base, ok, ecco, questo è il nostro vaso, vedete che è vuoto, ok, andiamo a vederlo in, ora in modalità oggetto, e adesso dobbiamo aggiungere alcune modifiche al nostro oggetto, ritorniamo in modalità modifica, lo dobbiamo un po' levigare, e aggiungiamo a questo proposito dei modificatori, aggiungi modificatore, e il primo è il solidifica, che aggiungiamo, per dare solidità e non trasparenza al nostro vaso, e poi andiamo in modalità oggetto e applica, quindi aggiungi modificatore, applica, ok, aggiungiamo un altro modificatore, e possiamo aggiungere come modificatore, un suddivisione delle superfici, superficie, e andiamo sempre in modalità oggetto, per fare applica, ok, una volta che siamo in modalità oggetto, siamo in modalità modifica, possiamo andare in modalità modifica anche con il tasto tab, ora sempre in modalità modifica, applichiamo anche lo smooth al nostro oggetto, selezioniamo il nostro oggetto con A, e applichiamolo a smooth, ok, andiamo a vedere il risultato, in modalità oggetto, vedete il risultato, il risultato è questo, è abbastanza levigato, è indispensabile aggiungere al nostro, sempre vaso, andando in modalità sempre a modifica, aggiungere un materiale, almeno un materiale, e quindi nella barra che si trova a nostra destra, clicchiamo su questa iconcina, ok, nuovo, materiale, e, ehm, diamo un colore al nostro materiale, ad esempio rosso, ok, e, ehm, ehm, poi facciamo assegna, andiamo in modalità oggetto, ecco, questo materiale, colore base, va bene, il colore base è quello, e, ehm, e quindi abbiamo, ehm, Ha segnato, come vedete, anche un materiale al nostro cilindro. Materiale questo. In modalità oggetto, dobbiamo andare comunque in viewport display e cliccare sul colore anche qui per averlo in rosso. Questa è la prima fase della costruzione di un oggetto. Siamo in modalità oggetto e questo è il nostro, come vedete, vaso costruito semplicemente ricorrendo ai comandi disponibili nella versione 2.80 di Blender. Buona serata a tutti.